Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense. Partiamo purtroppo con una brutta notizia, con la tragedia di ieri a Masi Torello, dove un 34enne del luogo, Marcello Zampini, ha perso la vita dopo essere finito in un canale con la sua moto. Mancava un quarto d'ora alle 19, quando per motivi in corso d'accertamento da parte della Polizia Municipale, l'uomo probabilmente dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito nel canale in secca a fianco a Via Cremona, strada che il 34enne stava percorrendo in direzione di casa. Inutili soccorsi del 118, per lui non c'è stato nulla da fare. Un incidente mortale che ha scosso fortemente la comunità di Masi Torello. Passiamo adesso alla politica, perché il sindaco di Ferrara, Tiziano Tagliani, alla vigilia delle vacanze, è intervenuto sulla questione Zerati Carife, uno dei temi caldi della città passati in rassegna per Telestense. Sentiamo perché il primo cittadino si dice molto preoccupato. Ma i giornali ci danno poi sempre, come dire, un'immagine soprattutto sul negativo. Allora leggiamo degli azzerati, che è stato uno dei drammi di questi anni. Si risolverà? Lei ha scritto in giugno, mi pare, al campo del governo Conte. Ho scritto senza tante risposte, dico la verità, ma per la verità dentro la legge finanziaria dello scorso anno ci sono delle risorse anche importanti. Intanto ci sono 150 milioni che bisognerebbe spenderle e sono passati ormai otto mesi e non se ne vede neppure il decreto applicativo. Non sono sufficienti, però prima dicevamo che non erano sufficienti, oggi non abbiamo ancora, diciamo così, le modalità di spenderle. Io sono molto preoccupato perché credo che così come sull'immigrazione si faccia la campagna elettorale lo si sia fatto e credo giustamente anche sugli azzerati. Però è il momento sia su un tema che sull'altro di cominciare a dare delle risposte e non di fare scomblamente dei problemi. Gli azzerati Carife, ex amici della Carife, hanno incontrati due sottosegretari del Ministero dell'Economia e si sono detti anche soddisfatti le risposte che hanno avuto. Quindi c'è da pensare. Quando arriveranno degli assegni penso che la soddisfazione si vedrà da quel momento. Io ad oggi non vedo nessun atto normativo, nessun atto amministrativo, anzi devo dire che anche la Consob si è esposta nel senso di impedire alla Commissione, diciamo così, quella di mediazione che comunque ha la possibilità di erogare anche un indennizzo ai risparmiatori, non ha dato via libero, la Banca d'Italia non ha dato via libero alle banche per poter erogare quei risarcimento che la Commissione della Consob invece aveva detto essere dovuti in alcuni casi, che sono alcuni casi propositi da Ubi Banca e anche da Biper. Quindi c'è ancora un conflitto a livello del nostro governo, delle nostre strutture di governo bancario centrale che evidentemente sta cercando di rinviare il tema degli azzerati, sperando forse che vada nel dimenticatoio. No, no, ho l'impressione che con gli azzerati terraresi non andranno nel dimenticatoio. L'intervista integrale al Sindaco su questi altri temi andrà in onda martedì 7 agosto alle ore 22 e da mercoledì sarà visibile sul canale YouTube di Telestense. Se rimaniamo in politica perché è stata espressa solidarietà ai carabinieri e aggrediti giovedì notte da due uomini di origine nigeriana armati di spranghe in centro a Ferrara e quella espressa appunto da Salvatore De Idda, capogruppo di Fratelli d'Italia, Commissione Difesa. Fa enorme rabbia vedere che siano liberi gli aggressori, scrive il deputato, il quale sottolinea a suo dire un problema legislativo. Sono diverse le proposte di legge di Fratelli d'Italia che inaspriscono le pene per chi mette in pericolo la vita e aggredisce i nostri uomini in divisa, ha concluso De Idda, che si appella alle forze politiche della maggioranza per mettere mano alle norme. Cambiamo argomento, la goletta verde di Lega Ambiente oggi ha traccato a Porto Garibaldi per mostrare i dati raccolti lungo il litorale Emiliano Romagnolo sullo stato di salute del mare. C'è una criticità. Situazione generalmente positiva in Emilia Romagna, un punto su 11 monitorati dalla goletta verde di Lega Ambiente però risulta fortemente inquinato e si tratta ancora una volta, per l'ottavo anno consecutivo, della foce del torrente Marano a Riccione. I rifiuti sulle spiagge poi continuano ad essere un problema rilevante anche ai lidi di Comacchio. Questo è in sostanza quanto emerso dalla conferenza stampa di Lega Ambiente a Porto Garibaldi che ha fatto il bilancio del monitoraggio svolto lungo le coste dell'Emilia Romagna da un'equip tecnica di goletta verde, la storica campagna dedicata al monitoraggio e dall'informazione sullo stato di salute delle coste e delle acque italiane. La foce del torrente a Riccione da anni è fortemente inquinata e per Lega Ambiente bisogna intervenire immediatamente onde evitare che questi scarichi continuino ad essere delle fogne a cielo aperto. Entro i limiti invece i valori riscontrati dai tecnici di goletta verde negli altri punti campionati. A compromettere però lo stato di salute generale delle coste ci sarebbe anche la presenza dei rifiuti abbandonati sulle spiagge. Il 94% di questi è plastica. Il nostro monitoraggio non vuole sostituirsi ai controlli ufficiali, sottolinea Lega Ambiente, ma punta a scovare le criticità ancora presenti nei sistemi depurativi per porre rimedio all'inquinamento dei nostri mari. L'associazione interviene anche sul rischio troppa cementificazione. Il 59% del litorale emiliano-romagnolo, in particolare da Lido Savio, nel Ravennate e fin giù nelle Marche, è edificato e il pericolo per Lega Ambiente ora rischia di interessare le aree ancora libere da cemento tra Ravenna e Comacchio. E ora andiamo con le telecamere in una struttura speciale. È stata pensata per pazienti con patologie neurologiche quali la sclerosi multipla e la sclerosi laterale amiotrofica. È la casa del sollievo struttura sanitaria attualmente in costruzione, voluta dalla Fondazione Ado per dotare la città e la provincia di una residenza sanitaria che obbidisce ad una nuova concezione dell'assistenza. Procedono i lavori nel cantiere della casa del sollievo, la nuova struttura sanitaria voluta da Lado di Ferrara, associazione domiciliare per pazienti oncologici, che intende affiancare la casa della solidarietà, l'hospice realizzato nel 2001 per offrire ai pazienti oncologici le cure palliative necessarie nelle fasi più avanzate della malattia, una nuova struttura residenziale per dare assistenza a pazienti con patologie neurologiche. Situata nella zona ovest della città, la casa del sollievo, realizzata con tecnologie e materiali ecosostenibili, è disposta su due piani per una superficie complessiva di circa 5.000 metri quadri. Un'area per i pazienti al piano terra e i servizi di supporto al primo. Dotata di 20 stanze singole domotizzate con un secondo letto per un familiare, ogni stanza della casa del sollievo si affaccia su un giardino interno privato, con possibilità di accedere al parco interno comune riservato non solo ai pazienti e ai familiari, ma anche a chi vorrà usufruire dei servizi aperti a tutta la comunità di cui la casa del sollievo sarà dotata, vale a dire un teatro, una sala polivalente per convegni, concerti ed eventi ricreativi e anche una palestra in un ristorante. Oggi, giunti a tre quarti della costruzione, i volontari e soci dell'Ado, con la loro presidente Daniela Furiani, si apprestano a lanciare ai loro concittadini e a quanti da sempre sostengono le attività, la raccolta fondi necessaria per completare una residenza sanitaria destinata a dotare Ferrara di una struttura che sarà anche un polo di aggregazione culturale e sociale. L'idea innovativa, infatti, da cui prende le mosse il progetto è di abbattere le barriere tradizionali tra città dei sani e città dei malati, minando alla base l'idea di rinchiudere i malati in spazi separati, pur garantendone e tutelandone la privacy necessaria. Inserite in un'area verde trazzata, la struttura, ancora in fase di completamento, sarà aperta ai cittadini per brevi visite guidate già da fine settembre. Economia adesso, agricoltura, l'Emilia Romagna, leader in ambito italiano ed europeo per i prodotti di qualità, si candida a diventare uno dei principali hub protagonisti sulla scena internazionale nei temi della ricerca, dell'innovazione e più in generale delle politiche in campo agroalimentare. La sfida era stata lanciata dal presidente della regione Stefano Bonaccini nella giornata di apertura di CIBUS che si è svolta alcuni mesi fa a Parma, ma è stata ribadita anche ad Argente in provincia di Ferrara in occasione dell'inaugurazione della prima campagna di pomodori di Italton. La forza dell'agroalimentare per l'Emilia Romagna, un'ambizione di stare sul mercato con qualità. Sì, noi siamo la regione che è diventata addirittura prima nel paese, non solo per crescita, ma anche per export, per quota pro capite. Lei pensi che il risultato del 2017, cioè oltre 58 miliardi di euro di prodotti esportati da questa regione nel mondo, grazie a straordinari imprenditori che hanno la difficoltà della competitività scarsa sul costo del lavoro, perché da altre parti del mondo il costo del lavoro è molto più basso, ma che sulla qualità di quello che producono spesso sono imbattibili o inimitabili. 58 miliardi di euro di esportazioni vale il pila di addirittura alcuni interi paesi d'Europa. È dato da distretti manifatturieri importanti, la meccanica meccatronica, i motori ovviamente laddove si costruiscono le auto e le moto più belle del mondo la fanno da leone, ma la seconda voce dell'agroalimentare che precede persino la ceramica, il biomedicale o la moda è l'agroalimentare. Oltre 6 miliardi di euro di prodotti nel mondo, siamo la regione che ha il più alto numero in tutta Europa di prodotti GP e DOP, quindi come diceva e chiedeva lei sulla qualità noi dobbiamo investire lì e credo che se investiamo sulla qualità, che vuol dire però che le istituzioni a partire dalla regione mettano una filiera ad esempio di fondi europei dedicati soprattutto alla ricerca, all'innovazione, all'internazionalizzazione, io penso che l'Emilia Romagna possa dire qualcosa di rilevante oggi ma anche in futuro. D'altra parte ricordavo come l'export è stato l'ammortizzatore sociale più importante se così lo vogliamo caimare, negli anni della crisi dove il segno meno era ad ogni voce nell'export continuava ad esserci un segno più. È iniziato uno dei periodi più caldi dell'anno in tutti i sensi sulle strade italiane e ferraresi. A partire da questo weekend bollino nero per il traffico ad alta intensità verso il mare e i luoghi di villeggiatura. Come ogni anno però si registra un fenomeno deplorevole, l'abbandono degli amici a quattro zampe. Però c'è una novità. L'abbandono di cani e gatti lungo le strade ma anche in luoghi sperduti continua a essere un lato oscuro delle vacanze estive degli italiani. Per questo anche il Codacons aderisce alla campagna contro l'abbandono di cani e animali. Si tratta di un vero e proprio reato punito dal nostro codice penale con l'arresto fino ad un anno e una multa fino a 10.000 euro, ricordano dall'Associazione dei Consumatori. Per Codacons l'abbandono di cani e animali è un fenomeno ancora molto diffuso in Italia e spesso i responsabili riescono a farla franca pur mettendo in pericolo la vita degli altri utenti e quella degli stessi animali, continua l'Associazione. In parallelo è stato lanciato quest'anno un servizio apposito. Tutti i cittadini e gli enti per la protezione degli animali che notano qualcuno lasciare cani, gatti o altri in strada possono contattare il call center Codacons 89207 o inviare una mail al Codacons allegando foto, numero di targa dell'auto o qualsiasi particolare utile a identificare i responsabili di questo che l'Associazione definisce un crimine. I responsabili provvederanno a presentare denuncia formale in procura e a contattare le associazioni di volontariato locali che si prendano cura degli animali a quattro zampe abbandonati. L'estate ferrarese è stata caratterizzata finora dalla massiccia presenza di insetti e di zanzare complice anche il grande caldo. La regione Emilia Romagna e le aziende sanitarie regionali su questo fenomeno vogliono essere attente e danno qualche consiglio. Repellenti sulla pelle e sugli abiti, zanzariere e pantaloni lunghi e poi fare trattamenti antilarvali, eliminare i sottovasi, svuotare frequentemente le ciotole d'acqua per gli animali domestici e evitare che l'acqua ristagni nei giardini. Questi in sintesi consigli della regione Emilia Romagna alcuni accorgimenti che non solo sono utili ma necessari per proteggersi, soprattutto perché molti degli insetti che si trovano nelle nostre zone possono essere portatori di virus che possono diventare, specialmente per le persone che si trovano in situazioni di fragilità, potenzialmente pericolosi anche per l'uomo. La regione e le aziende sanitarie rinnovano l'invito ad adottare una serie di precauzioni per tutelarsi dalle punture delle zanzari in particolare, perché esse possono veicolare la trasmissione di virus, quali ad esempio la West Nile, che ciclicamente fa registrare la propria presenza e che potrebbe portare a problemi di tipo sanitario. Per quanto riguarda la sanità pubblica, dall'inizio di giugno è attivo il sistema di sorveglianza su virus e malattie trasmesse dalle zanzare, va detto che le frequenti piogge di luglio probabilmente hanno reso meno efficaci i trattamenti. Per questo sono state adottate le misure previste dal piano regionale. Le autorità sanitarie poi, per tutto il periodo estivo, invitano i cittadini ferrarese ed Emiliano e Romagnoli a prendere precauzioni. Se sei all'aperto, è buona abitudine vestirsi sempre con abiti di colore chiaro, indossare pantaloni lunghi, capi di abbigliamento a maniche lunghe e non utilizzare profumi. Per proteggersi dalle punture è consigliabile usare repellenti sulla pelle e sugli abiti, ma con cautela per i bambini e per le donne incinta. Passiamo alla cultura adesso, perché parliamo di un fiume di musica. La rassegna che ha acceso i riflettori sul quartiere Giardino e sulla Darsena di Ferrara. Un'edizione, quella del 2018, che ha registrato per gli organizzatori un bilancio più che positivo. Tre mesi di calendario, 18 eventi musicali e ingresso libero, 500 persone presenti in media a ogni serata. Questo è il bilancio della terza edizione di Un fiume di musica, il ciclo di concerti organizzato dalla Scuola di Musica Moderna in collaborazione con il consorzio Wunderkammer, di cui l'Associazione Musicisti di Ferrara fa parte. Un festival che si è svolto all'interno del progetto Smart Doc, nell'ambito di giardino creativo finanziato da Anci. Un bilancio più che positivo, come ha sottolineato Roberto Formignani, direttore artistico e ideatore dell'iniziativa. Dopo la terza edizione, possiamo dire di avere acceso i riflettori sulla Darsena cittadina, facendola diventare un altro punto dove far passare il pubblico ferrarese non piacevoli serate. L'impatto sul quartiere giardino è stato senza dubbio molto positivo, perché non ci sono state lamentele per il suono, che è sempre stato contenuto e limitato al massimo alle ore 23, ha spiegato Formignani. All'interno di un fiume di musica sono stati inseriti due festival, Wawa Music Fest, che ha visto la vicendarsi di cantautori indipendenti sia della città che internazionali, tra cui Dirk Helmington, e il festival della chitarra Manoushi Gypsy Guitar, dedicato a Mario Maccafferry, gli utaio centese che ha stabilito un must con i suoi strumenti adoperati dal leggendario chitarrista Django Reinhardt. A parte i due festival, l'idea alla base di un fiume di musica è quello comunque di far suonare gli insegnanti della Scuola di Musica Moderna di Ferrara, che in questo modo promuovono il loro operato all'interno della scuola stessa. La prossima edizione, conclude Formignani senza dubbio, manterrà il collaudato format, cercando comunque di aggiungere delle novità. Vedremo se allungare il periodo della rassegna, oppure come utilizzare al meglio il luogo che ci ospita, provando a mettere in risalto alcune peculiarità intrinseche della Darsena e del fiume. Sport adesso sta entrando sempre più nel vivo la nuova stagione della SPAL. Chiusi i capitoli dei ritiri stivi in montagna, i biancozzurri ieri si sono imposti per 2-1 sull'Eintracht Francoforte, nella prestigiosa amichevole che ha di fatto chiuso il ritiro. Mancano due settimane alla prima di campionato e una settimana alla sfida in Coppa Italia contro lo Spezia. Ma come sta la squadra, cosa manca e soprattutto conosciamo un nuovo giocatore biancozzurro, Moncini. Come è stato per Gabriele Moncini questo periodo, dall'addio del calcio che conta Cesena alla SPAL in Serie A? Ma diciamo è stata un'estate particolare perché nessuno si aspettava che succedesse quello che è successo a Cesena, però sono contentissimo di essere arrivato qua e spero di giocarmi le mie carte nella massima serie. Inizialmente si era ipotizzato anche un tuo trasferimento dalla SPAL in una squadra di Serie B per giocare di più, per avere una maglia titolare, ma ad un certo momento evidentemente hai convinto semplice perché il direttore Davide Bagnatti ci ha detto no, Moncini resta qui con noi. Ma diciamo che non è stato più che altro il fatto di aver convinto il mister. Già io avevo altre richieste, mi ha convinto più la SPAL perché mi aveva convinto il fatto che il direttore voleva che restassi qua fino a giugno. Giustamente quest'anno magari nelle gerarchie partirò un po' più indietro, però il mio compito è di quando sarò chiamato in causa di dare una mano alla squadra. Simone Colomini, finisce la fase di caperazione della SPAL con una bella vittoria contro una squadra, anche del facco forte, che si sa punta addirittura l'Europa Liga. Sicuramente è sempre bello vincere, oggi conforta anche la bella prestazione, siamo partiti magari un po' accorti, abbiamo sofferto anche la velocità dell'Eintracht in qualche occasione, però poi abbiamo tenuto bene il campo, abbiamo preso le misure, direi che nel secondo tempo per quello di Buone che mi ha fatto vedere, ci siamo anche meritati questo successo. A Fregomis è già in forma campionato? Diciamo un po' tutta la squadra, abbiamo ottenuto un gran bel risultato contro una squadra prestigiosa, una bella sfida, eravamo un po' stanchi dovuto alla preparazione, ma è normale. Ti senti titolare o temi la concorrenza di Milinkovic? Conosci questo portiere, pure lui è arrivato dal Torino? La concorrenza fa sempre bene, temerla no, assolutamente, perché in fin dei conti sono convinto delle mie qualità e penso di essere in grado di mettere in mostra. Un confronto tra la stagione passata, anche se tu in ritiro sei arrivato solo nella seconda fase, è quella che invece vi aspetta? C'è un gran bel gruppo, perché c'è il gruppo dei vecchi che è un blocco bello e compatto, ha aiutato molto i nuovi a inserirsi, tutti i bravi ragazzi, perché la società comunque fa molta attenzione a questa cosa, a prendere prima gli uomini che i giocatori. Perciò sono inseriti molto bene, stanno dando il loro contributo, si fatica, si lavora tutti insieme, quindi siamo sulla buona strada come l'anno scorso. Cosa vi siete detti quando vi siete visti? Mi riferisco a te e a Cione che è qui a Ferrara. Ah niente dai, ci eravamo già visti dopo la partita mondiale di sfuggita e siamo visti qua, abbiamo fatto una gran bella esperienza entrambi, sono contento io per lui che è riuscito a calcare quei campi là. Un campionato difficile più o meno rispetto a quello della stagione passata, secondo te quello che vi aspetta? Secondo me sarà ancora più difficile perché tutto il livello del calcio italiano si è alzato con gli acquisti che stanno facendo e probabilmente che faranno ancora, però per noi non cambia molto, ci sarà da soffrire, lo faremo insieme al nostro pubblico e tanto sappiamo che un campionato difficile è la Serie A, quindi cercheremo di farci salvare pronti. La nostra rosa è quasi al completo, ci manca solo qualche pedina, non poca, quindi vogliamo scegliere bene, il mercato è vero che mancano solo due settimane, però due settimane sono anche tante, quindi non dobbiamo sbagliare questi colpi tenendo conto che il budget che abbiamo non è illimitato, ma faremo il possibile per rinforzare ulteriormente questa rosa che però mi sta piacendo, mi è piaciuta nelle partite giocate finora e anche oggi. Mi ha piacere che Simone Colombarini ha detto questi colpi? Questi uno, due, tre, vediamo, il budget rimane quello, non è che prendere tre giocatori o uno cambi il budget, vediamo cosa si può fare, oggi sapete che anche numericamente non siamo in pochi, oggi forse l'unico reparto dove un inserimento sarebbe quasi necessario è il centrocampo, per il resto potremmo anche essere a posto così, però vediamo, 15 giorni di mercato sono lunghi e qualcosa può cambiare sicuramente. Bene, staremo a vedere il calciomercato della SPAL, tutti gli aggiornamenti li trovate sul sito telestense.it e sulle pagine Facebook di Telestense. Questa era l'ultima notizia e vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Autore dei sorrisi